Ciao, va bene ciao, ciao Bentornati nel canale di Giacoli X Lab Sempre, sempre, sempre Stasera facciamo, io e Nello, un altro di VaporUp VaporUp Evolution, gruppo Tubi Pharma E faremo Mango Ice Liquid Benissimo, allora Mango Ice Liquid Prima di tutto salutiamo Stefano Salutiamo Stefano VaporUp Evolution Perfetto Un liquido al Mango Solo Mango Solo Mango E ovviamente parte ghiacciata Eh, purtroppo Eh, sì Purtroppo, parte ghiacciata Fammi nasare, Nello 0,16, dual coil Tiro chiuso, ristretto 0,65 Beh, il gusto Non so se è molto fedele al Mango Però È un profumo molto buono Profumo molto buono Però non vi so dire esattamente Se è fedele al gusto del Mango Al profumo del Mango, perdono Allora, qui abbiamo Togli Parecchio Parecchio Ice Tanto? Sì, sì Tanto, tanto? Non estremamente tanto Ma parecchio Allora, devo dire che io Questo liquido qua L'avevo provato Molto L'avevo provato Su una Su una Drag E la parte di Mango E la parte di Mango Usciva molto molto meglio Qui risulta un po' più acerbo Allora, l'avrei preferito un po' più dolce Molto, cioè un po' tanto più dolce Devo dire che però Questo, questo Ice Svapato Sembra quasi, quasi menta Quasi menta Che cazzo è? Mi scade la mina Ti scade? La mina Ma porca puttana E quindi cosa devi fare? Devo giornare Perché se no mi abbattono la navicella Ma mettilo qua al telefono Scusa Ma tanto faccio presto 5, 4, 3, 2, 1 Quindi, vi da l'idea di menta Anche se non c'è Probabilmente è il connubio Fresco E questo sapore di Mango Che non lo ritengo molto fedele Sinceramente Su questo non riesce molto bene E Ho proprio voluto metterlo su questo Su un dual coil Però appunto Sulla Drag Io l'ho provato sulla Drag La prima volta E usciva molto molto bene Da parte del Mango Devo dire che è un liquido Alla fine però Un liquido buono Non è un liquido cattivo Troppo Ice per me Da sulla menta Che non mi ispira molto E per me dovrebbe essere un po' più dolce Però sono tutti fattori personali Questi Qui Rispetto alla Drag Fa uscire la parte di Mango Un po' più acerba Si appunto è meno dolce Meno dolce Più acerba Sulla Drag Usciva di più la parte più dolce La parte matura del Mango Qua mi sento Gli do La sufficienza Sei gli do Gli do Un otto Otto Salutiamo Stefanello Salutiamo Stefano Di Vaporamp Lo ringraziamo Lo ringraziamo Ci vediamo col prossimo video Eh sì Sì Va bene Ciao 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 Grazie a tutti.